buongiorno partiamo con la nostra ricetta della nuova rubrica cucinando come se cuisine oggi vi faccio vedere com'è facile preparare il polpo con le patate intanto mettiamo un mazzetto di prezzemolo lavato e asciugato tamponandolo con la carta da cucina e mettiamoci dentro uno spicchio d'aglio andiamo a tritare cottura personalizzata temperatura zero tempo aspetta sono stato troppo sodo cinque secondi a velocità 7 direzione destra il condimento per il nostro polpo le nostre patate pronto ora lo andiamo a mettere in una ciotola e passiamo alla cottura del polpo delle patate allora nel boccale abbiamo inserito il nostro polpo con 200 grammi di acqua e 50 grammi di vino bianco nel nostro contenitore aspettate sposto la luce si vede meglio ho messo 300 grammi di patate ho chiuso e ora passiamo alla cottura levo la bilancia quindi andiamo a 100 gradi per 40 minuti velocità 1 le lame questa volta le impostiamo a sinistra questo è il risultato finale l'ho assaggiato secondo me altri cinque minuti di cottura forse non sarebbero guastati però tanto ora voi lo proverete e me lo farete sapere buona giornata animvele Grazie.